Un buon Natale in salute e in serenità, pur consapevoli dei tanti problemi che affliggono la nostra isola, abbiamo la forza, la determinazione, l'adrenalina vorrei dire, per affrontarli e superarli. È il momento in cui il presepe ci restituisce la forza della nostra identità, il ricordo della nostra infanzia. Il Natale è il momento della pausa per poi riprenderci e guardare al nuovo anno con spirito di rivincita perché questa terra nel 2022 può giocare una partita importante in termini di crescita economica. Il Natale è anche il momento in cui non dobbiamo perdere di vista il rispetto per le regole se vogliamo combattere la pandemia. Siamo stati bravi negli ultimi mesi, tutti i cittadini, nel rispetto delle regole. Inevitabilmente con la variante andremo fra qualche giorno in zona gialla e tuttavia sappiamo che questo virus, per quanto sia molto più contagioso, non è così virulento come quello che abbiamo conosciuto lo scorso anno. Quindi un Natale anche nel rispetto delle regole, tanta prudenza, tanto patos, tanta partecipazione ed è l'augurio del Presidente della Regione e del Governo regionale, l'augurio che faccio a tutti, soprattutto a chi per vari motivi ha perso la speranza e noi abbiamo il dovere di restituirla. Grazie a tutti.